Sono qui in Comune perché siamo veramente stanchi di questa amministrazione che ha in questi anni massacrato completamente, in maniera incivile indegna, la nostra città. Siamo qui per dire basta, sono qui personalmente, per dire basta e mandarle a casa tutti quanti, Sindaco e Giunta. Continuerete il presidio fino a quando la Giunta e il Sindaco non si dimetteranno? Le nostre intenzioni sono sicuramente queste, la forza per ora c'è, cercheremo di andare avanti il più possibile fino al momento in cui le persone, il Sindaco e tutta la sua Giunta, decadano e si dimettano. Qual è il clima che si respira a Carrara? Rabbioso e determinato e c'è un'area di solidarietà. Avete avuto modo di parlare con il Sindaco? Noi abbiamo provato a parlare con il Sindaco il giorno della manifestazione, sabato, e lui si è presentato dopo due ore dall'appuntamento che ci eravamo prefissati, ha provato a scendere la scala e dopo un quarto d'ora di prove tecniche perché non funzionavano i microfoni, l'unica cosa che ha saputo dire è che la Giunta non ha responsabilità. Chiaramente la folla si è arrabbiata e ha manifestato il suo disappunto perché non ci si aspettava dalla parte del nostro cittadino una frase del genere come primo esordio di fronte della gente che è stata ridotta in ginocchio da questa alluvione.